Ragazzi bentornati qui sul canale, rieccoci con Yacht Mechanic Simulator, riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati Dunque allora ragazzi stavamo sistemando questo yacht, allora vediamo un attimino, attrezzature aggiuntive, pavimento, sedile posteriore, tavolo esterno Allora innanzitutto vediamo un attimino, allora vediamo il pavimento, il pavimento credo che dovrebbe essere questo qui Perché parla semplicemente di un pavimento ed il pavimento dovrebbe essere per l'appunto questo Dopodiché il sedile posteriore che è questo, allora vediamo se io magari lo provo a togliere magari Rimuovi e negozio, allora vediamo un attimino Divano di poppa rosso, divano di poppa rosso, allora io direi di mettere più o meno Forse magari questo qui no, però lo possiamo fare tipo personalizzato se vogliamo Accetta Cacciavite E' ok Sì, quantomeno credo, sì è andato, è andato Allora dopodiché mi viene detto di, credo sostituire il pavimento e il tavolo interno Allora tavolo interno credo che dovrebbe essere questo Un tavolo interno, credo di sì Allora vediamo un attimino Cacciavite, no E' una chiave a cricchetto Rimuovi Negozio Allora vediamo un attimino, possiamo mettere tipo A Magari fatto in legno Se proprio proprio vogliamo Credo di sì Ok, signori, è andato Dopodiché il sedile del capitano, sedile sinistro del timone e naturalmente anche il pavimento Allora il pavimento credo che forse sia questo o questo Ora vediamo un attimino Dunque allora, vediamo Se io vado a rimuovere questo Mi dai anche la chiave a cricchetto Dopodiché rimuovi Torna indietro Vorrei rimuovere anche questo Vediamo un attimino Negozio Allora pavimento e il legno Una moquette Gli possiamo mettere? Credo anche di sì Credo anche di sì No, attrezzatura aggiuntiva pavimento Tavolo esterno No Allora arrivato a questo punto Aspetto un attimo Mi sa che abbiamo fatto un piccolo danno Allora rimuovi Negozio Pavimento e il legno Credo Aspetta perché ad essere rosa sto pavimento? Ma non deve essere rosa No, aspetta Aspetta perché mi sa che abbiamo Un piccolo problema qui Allora Aspetta un attimo Rimuovi Negozio Eh ma sì ma perché questo qui? Ma non riesco a capire Eh no eh No 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 Questa cosa qui proprio non l'accetto Scusi biondo Voglio dire che cos'è Una moquette Non lo so ragazzi Allora rimuovi No aspetta Negozio Vediamo un attimino Se metto questo Tavolo esterno Il tavolo esterno Allora come tavolino esterno Magari gli possiamo mettere pure questo qui Eh no aspetta Indietro Un attimo ragazzi Eh ma ridagliela Eh che cos'è Scusi Allora Negozio Vediamo Mettiamo questo Ma sì dai ci sta Ci sta Metti questi Dai e così E ok Allora come pavimento Non è andato Come pavimento Non è andato Eh sedile sinistro Sedile destro Allora vuol dire che questo qui Il sedile del capitano Eh lo Aridagliela Lo dovremmo togliere Lo dovremmo togliere Allora aspetta un attimo Rimuovi Negozio Eh facciamo questo qui rosso Ti sta bene Biondo Sì Ok Eh Interno Sedile Interno Sedile No aspetta Esci Interno sedile Vuol dire che dovrebbe essere questo Com'è che lo faccio a togliere questo qui Per togliere questo non lo so Allora Sedile sinistro del timone Che dovrebbe essere questo Aspetta Uno E due Rimuovi Negozio Facciamo tutto rosso Facciamo tutto rosso Accetta Daie E daie Ehm Dopo credo che dovrebbe essere questo qui Sedile destro Eh Daie de cacciavite un'altra volta Vai così E ok Rimuovi Rimuovi Negozio Facciamo sempre tutto quanto rosso Cacciavite A vita E a vita Ehm Allora quello lì del timone Quello lì del timone Allora aspetta un attimo Interno sedile Ma dovrebbe essere questo però Dovrebbe essere questo Ehm Com'è che lo faccio a togliere questo qui però Cacciavite Si Rimuovi Monta Questo Accetta Cacciavite E ok Perfetto Ehm Dopodiché ci vuole Ehm Un pavimento Ma il pavimento Che io non ho ancora ben capito Ehm Quale cavolo di pavimento sia Allora secondo me Il pavimento dovrebbe No Indietro Dovrebbe essere Quanto meno Questo qui Ehm No Che Ma che fai Com'è che si toglie Sto coso Pavimento Questo Monta No Niente Allora questo qui Com'è che si arriva Sto coso Oddio Aspetta un attimo Negozio Ehm Se vado 8000 Allora Pavimento Aspetta Aspetta No Io qui ogni tanto Ragazzi vado sempre in confusione Quindi Lasciate fare Lasciate fare Allora Chiudi questo Ehm Dopodiché Monta No Indietro Inventario Ma com'è che mi faccio Ah Vendi 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 tutto Vendi tutto Esci Ehm Allora Come detto Ehm Il pavimento Il pavimento Scusi Biondo Ehm Ehm Negozio Ok Ma scusa Ma non ho capito Ma perché diventa Ma certo che non Non riesco a capire Però Ehm Allora Interno Motore Timone Timone Vattela pesca Ma quando Stai il timone Ehm Negozio Aspetta Esci Il timone Ci vuole Il timone Ehm 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 Pompa Cavo della batteria Ehm Questo qui non si sa che cosa sia Dei cavi che sono Da cambiare Allora Attrezzatura aggiuntiva Cavi Ma cavi dove Scusa Se mi dice Se mi dice Dove li devo mettere Io questi cavi Forse magari sarebbe Anche L'ideale No Ehm Interno motore Il timone Ecco Il timone Che dovrebbe essere Questo qui Il timone Ehm No No Indietro Il timone Ehm Aspetta un attimo Oddio Ragazzi Veramente Non riesco a capire Quale cavolo sia Quello li del timone Il cavo della pompa doppia Potrebbe essere questo No Mannaggia La miseria Oh Ma ogni cavolo di volta Mi viene Mi viene L'ansia E che cos'è Anzi Ansietta Qua Madonna Il cavo della batteria Ehm Oddio Ragazzi No Veramente Non Non riesco a capire Ehm Non è che Mo qua Mi posso mettere A smontare Tutto Ehm Scusa Che cos'è L'attrezzatura aggiuntiva I cavi Ma Non è che forse magari I cavi Ma quali cavi Ma mi scusi Biondo I cavi Scusa Quali cavolo di cavi sono Perché qui ci sta l'ancora Ma non è che sono questi qua No Questo qua progresso 100% Questo qui anche Questo anche Questo qui anche Cavi Cavi Ma Scusa Ma se mi dice Aspetta E' questo però Negozio Ah Ehm Salvagente Oh Io gli metto i salvagente Poi Non lo so Il Timone Cavi Ah Cavi interno motore E ma quali cavolo Quali cavolo Ah Questi cavi 30% No Esci Indietro Allora sono questi qui Negozio Ehm Interno motore Timone Ci manca il timone Quindi sostituire la parte Non riesco a capire quale cavolo sia Ehm Ragazzi I cavi li abbiamo cambiati Adesso manca Interno motore Timone Devo smontarmi tutto quanto il motore Ma non riesco a capire Ragazzi è più complicato del previsto Sto cavolo di Di coso qui eh E' molto più complicato Del previsto Allora Interno motore Questo qui al 100% Tagliela Ok Ehm Dopodiché Ehm Ehm Montare Questo qui anche al 100% Questo anche Mannaggia La miseria Mannaggia Ehm Ragazzi io non Non riesco a capire Quali cavolo sono Sti Sti Cavi O meglio Interno motore Del timone Eh ma Non riesco a capire niente Aspetta Forse magari sarà questo Eh no ma questo qui Al 100% Allora vuol dire Che sarà da lì A qui Sì Perché scusami Eh Dopodiché Mi dà la chiave A cricchetto A vita qui Va Prima che fai Muoi danni E questo qui è andato Ehm No Cavolo fai Monta qua Questo qui anche A posto Ehm Chiave a cricchetto Tagli Il cacciavite E la chiave Inglese E ok Ehm Dopodiché Questo cavolo Di interno Motore Che Come detto ragazzi Ribadisco Non riesco A trovare Questo cavolo Di interno Motore Allora Interno Motore Vuol dire Che è questo Allora Vediamo un attimino Stacchiamo innanzitutto Le batterie E cerchiamo Di capirci Qualche cosa Rimuovi Togli il filtro Ehm Dopodiché Aspetta un attimo Chiave Cricchetto Maledizione Ritorna indietro Dopodiché Mi toglie Anche questo Rimuovi Indietro Ehm Ah Ecco E' tutto quanto Il motore Ragazzi E' tutto quanto Il motore Rimuovi Allora Negoz Oh Santo Dio Motore per yacht Allora Aspetta un attimo Ehm Se io torno indietro No Il mio inventario Il mio inventario Motore per yacht Vedete che questo qua Costa 1680 Però Ha una condizione Della 30% O più o meno Quindi io che devo fare Devo acquistarne un altro Di motore Bene Bene Va bene Va bene No 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 Va tutto bene Va tutto bene Motore per yacht No Negozio Eccolo qui Eccolo qui A posto Ehm Dopodichè Mannaggia la miseria Mannaggia li Dobbiamo montare Sti cavi o no Mannaggia la miseriaccia Inizio a mettere Inizio a mettere questi Cavi del 30% E no Quindi Mi metti Questi Ed è fatto Ok Quindi era il motore Più il cavo E ho speso un sacco di soldi Per Sti cavolo Di Vabbè Ragazzi Meglio non parlarne Meglio non parlarne Perché Sennò qua Veramente che Si esce pazzi A posto Ehm Aspetta Allora Questo 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 qui Monta 100% Accetta Ehm Questo qui Anche Monta 100% Accetta Ehm Allora Dove che eravamo arrivati Questo Questo Accetta Taglio le chiave A cricchello A posto Così Ehm Che cos'è che mi è rimasto In più Da mettere Questo Monta Ok Dai e così Dai e così Che mi è rimasto più da mettere Credo degli altri cavi Sicuramente Si Allora Aspetta Inventario Cavo del 30% E il motore Me lo vendi Almeno così Ci ricaviamo qualcosina Dunque allora Credo che tutti quanti i progressi Siano fatti Al 100% Perché Non vedo nient'altro Da mettere Ehm Sapete che cosa Forse magari ci voleva Quella lente Di Ehm Andare ad ispezionare Quale tipo di Pezzo È danneggiato O magari All'occorrenza Sostituirlo Eccetera Allora Vediamo un attimino Io credo di aver Messo completamente Tutto Ragazzi Allora Hai finito l'ordine E forse hai Un giro Dei pezzi danneggiati Che non hai ancora venduto Già fatto Capo Già fatto Non ti preoccupare Ehm Dopodiché Dopodiché Allora vediamo un attimino Credo che forse magari possiamo anche collaudarlo Allora vediamo Ehm File test E termina Ok Vediamo un attimino anche questa fase di test Dei nostri yacht Che andiamo a sistemare così Senza ombra di dubbio Sei stato bravissimo Guarda questa barca Non è bellissima L'unica cosa che resta da fare è Vararla E apprezzare i risultati Del nostro duro lavoro Tieni premuto Tieni premuto Left button Per Varare Allora Vediamo Con quel cavolo di pavimento rosa Ma perché in un pavimento rosa Ma scusate Scusate Ma Non so però se si può verniciare Non lo so Dopo magari quando ritorniamo dentro Possiamo anche provare Vediamo Giusto tanto per Farci più Ragazzi Un'idea abbastanza chiara No Voi che dite Allora Benvenuta all'esercitazione di navigazione Qui potrai testare le tue imbarcazioni Rimesse a nuovo Di fare attenzione A non danneggiare la barca Va bene Allora Funzionare funziona Aspetta Funzionare funziona Però aspetta Dov'è che andiamo Che poi tra l'altro Dov'è il nostro personaggino Perché Aspetta un attimo Da dov'è che si esce Scusi Biondo Ma mi potete dare un piccolo avviso Una mappina Magari Non lo so Signori Ci abbiamo da parte 21.910 dollari Che è una cosa abbastanza Concreta anche Allora Credo che si dovrebbe iniziare da qua Oddio È un mare molto mosso però Allora Prova di guida Completa l'intero percorso Superando tutti i cancelli Uno per uno Il tempo Conta solo se vuole battere il proprio record Va bene Che noi non siamo qui ragazzi Per battere il nostro record Ricordiamoci che noi siamo qui per Testare il nostro macinino del caffè Aspetta Una cosa per volta Perché se no qua Se iniziamo a fare curve larghe Curve strette Qui Si capisce niente Come detto ragazzi Del record Non mi interessa assolutamente niente Io sto provando Testando il nostro yacht Che abbiamo appena sistemato Allora Qui tieniti un pochettino più stretto Dai è così Vai così Accelera Attenzione Attenzione alla costa Attenzione alla costa Dai è così Dai è Viaggialo Fallo scattare sto yacht E che cos'è Dai è Dai è così Allora Tutta velocità ragazzi Tutta birra È un attimino un po' troppo No dove vai È un po' troppo difficile Manovrarlo sto robo però eh Sono onesto Sono onesto Ok Vai così Vai così Come detto ragazzi Devo dire È veramente molto molto bello Questo yacht Mechanic Simulator Non mi sarei mai aspettato Di trovare un gioco del genere Certo Anche così come Car Mechanic Simulator Track Mechanic Simulator Insomma ragazzi Un sacco di simulatori Meccaniche eccetera Ora Non vorrei dire Ma Secondo me Qui Ne vale veramente la pena Ragazzi Riguardante questo titolo Però eh Oh Oh Madonna mia Abbiamo fatto dei danni E ora Chi paga Io Oddio Non lo so ragazzi Non lo so Abbiamo danneggiato Soltanto la scocca Scusi Eh biondo Madonna mia Tutto sto cavolo di lavoraccio Guardalo lì Quanto è fashion Con Con il pavimento rosa Guardalo lì Quante fashions Scusi Ma quanto cavolo dura Sto Sto percorso Eh vabbè Mora se mi devo mettere A fare pure gli slalom Qua in mezzo all'acqua Le mega onde qua che Tra un po' Trapassano pure lo yacht Pensate Aspetta Piano 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 Perché se qua fa mutande Signori Qua ci fanno pagare pure le mutande Vicino allo yacht del genere Ci fanno pagare pure le mutande No voi che dite Eh beh Secondo me sì Secondo me ci fanno pagare pure i mutandoni Scusi Biondo Do cavolo Ma ancora Ma non abbiamo ancora finito Non abbiamo ancora terminato Ah R per tornare al garage Dopo aver terminato la prova della barca Ok Allora Sei stato bravissimo Ora porta la barca nella posizione finale E rimani in quel punto Per un momento Per completare il test Aspetta No 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 Non ritromarcia Andiamo Piano Piano che già abbiamo fatto Un tot di danni A posto La base della navigazione Sono stato Ritorneremo all'hanker Per continuare a lavorare Sul prossimo ordine Va bene Allora Ritorniamo al nostro garage Vediamo un attimino Quanto ci pagano Per questo nuovo yacht Se così vogliamo dire Bello che è riparato E tutto Non vorrei dire Ma ragazzi abbiamo fatto Un ottimo lavoro Dunque allora Ci danno Il nostro di guadagnato E 19.000 dollari Speso 12.000 Il totale 7.000 Con un bonus Naturalmente Diciamo così Del 10% Va bene Quindi Abbiamo finito Sì Ok ok Va bene ragazzi Va bene Allora aspettate un attimo Fatemi salvare un attimino La partita Vediamo un attimino Qui in posta Che cos'è che abbiamo Allora 3.400 4.800 Aprire Sei discreto? L'altro giorno Ho portato il mio ragazzo Sullo yacht Di mio padre Perché Ma come Ma stavo leggendo Ma mi scu Ma E niente E niente Sì Non ricordo molto di ieri Ma i miei amici Mi hanno appena scritto Che ho comprato uno yacht Di solido Questo succede Solo quando vado a fare Una serata in città Con loro A quanto pare Ho ordinato Un sacco di spazzatura Difettosa Quindi potresti Dargli un'occhiata Non uscirò mai più Con questi ragazzi Guarda La brutta strada Guarda Te capisco E te capisco Te capisco Guarda Lascia fare Lascia fare Comunque Aspetta un attimo Posto in arrivo Com'è che faccio A tornare indietro 5.500 Ho bisogno che tu Cambi alcuni elementi Dalla mia cabina di comando Non chiedere perché O non pago Ma vabbè Inoltre manca l'elica Sostituiscila Per favore Ignora qualsiasi altra cosa Tu possa Declino Accetto No dai Accettiamo Questo qua Ci da 5.000 Qualche cosa Dai vediamo un attimino Quello che riusciamo Quanto meno ad inventarci Vicino questo yacht Che magari lo faremo anche In un prossimo episodio Ragazzi Devo dire che mi sta garbando Questo Questo yacht Mechanic simulato Guarda qua Che figata Guarda qui Che figatina Guardalo qui Allora qua Qua ci manca l'elica Dopodiché Pulire il ponte Riempire da parti E sostituire da parti Elica Controller della radio Pannello con interruttori E un sedile Bene Bene Allora Un sedile Quale sedile? Parla di questo sedile? Beh guarda Non ci sono problemi Io te lo posso rimuovere Anche adesso Guarda eh Siamo qui Siamo qui Mettiamo un bel Arancione Ma si dai Ci sta No E niente Arancione Accetta Faccia vita E questo è fatto Allora Vediamo un attimino Un'elica Non lo so ragazzi Non credo che riesco A farmelo tutto quanto In questo video Allora A tre pale A tre pale Questo qua 500 Se è 50 Dai Sospendiamo un pochettino Di più Allora Chiave inglese Dagli con la chiave inglese Dagli dei cacciavite E dagli dei chiave a cricchette Bene Perfetto Dopodiché Pannello degli interruttori Bussola Ah Bussola Allora Dovrebbe essere questo C'ha la miseria Aspetta Rimuovi Che ci vuole Credo un cacciavite Sì Ok Ok E ok Rimuovi Negozio Metti questo Accetta Cacciavite E stiamo a posto Dopodiché Abbiamo bisogno Di una bussola Ah Bussola Ando stiamo A terra pesca Allora Questo qui pure Bisogna rimuoverlo No Vabbè ragazzi Gli metto lo stesso Accetta Bussola 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 La bussola Che la bussola Di solito Si dovrebbe trovare Da queste parti Fatte la pesca Ando sta sta bussola Qua Scusi Biondo La bussola Controller Della radio Cento 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 Eh ma Controller Della radio Ecco perché Dico Mannaccia La miseria Perché Secondo me Come detto Ragazzi Ci vuole veramente Una lente Per Cercare di capire Quale parte Sia da sostituire E quale no Mannaccia Mannaccia Miseria Eh ragazzi Non riesco A trovare Il pannello Degli indicatori Ma il pannello Degli indicatori È questo Non mi dire Che è questo Negozio Cento 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 Scotto A me Serve Questo qui L'abbiamo appena Cambiato Questo qui È quello Della radio Eh ma Se non mi dici Quale cavolo è Questo qui È il pannello GPS Che va bene Questo qui Anche Cento Per cento Questo qui Anche Cento Per cento Aspetta Ah Eccolo qui Eh va bene Aspetta Rimuovi Monta Ok Esci Negozio Cento Cento Indicatori Nere bianco Famo bianco Ma Famo bianco Che è meglio Eh bussola Eh sta cazzo di bussola Mo Fatte la pesca Ando sta A ridagliela Scusi eh Bussola 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 Cento Cento Questo qui Non è niente Ma la bussola Forse sarà questa qui Madonna Ma la bussola Non è mica quella Eh ragazzi Sapete che non so Quale cavolo sia La bussola qui Dove è situata La bussola Può anche darsi Che sia questa qui Davanti a me Ora Non vorrei dire Ma Secondo me Potrebbe Ah aspetta Questo Ma sicuramente Sarà questo Allora Aspettate Facciamo così Vabbè ma Devo sostituirlo Tutto quanto Completo Negozio Cento No Aspetta Esci Eh no Ma questo qui Sta a posto Però Accetta Ragazzi Questo qui È a posto Ma sta benedetta Sta a bussola Andò cavolo E che sta Sapete che non lo so Qual è la bussola Questo qui Credo che dovrebbe stare a posto Chiave a cricchetto Monta No Questo qui sta a posto Queste qui sono le canne da pesca La bussola La bussola Bussola Ma scusi La bussola Eh ragazzi Ma i comandi Qui sono Aspetta Monta No È giusto Accetta Questo qui Anche sta a posto Bussola Bussola Pannello Degli interruttori Ma scusa Ma il pannello Degli interruttori Te l'ho cambiato adesso Ma che cosa E che vuoi Madonna Mia Madonna Madonna Oh Santa misericordia Pannello Degli interruttori Pannello Degli interruttori Ma se può sapendo Che appena Stanno Oh Signori Io qua Non riesco a trovare Un bel niente Con sti pannelli Di interruttori No eh Questo qui non è Eh vabbè Qui niente Questo qui ragazzi Il pannello C'è un altro qui Però non Cioè Non mi fa cliccare Inventario Vendi 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 E vendi Ok Come detto ragazzi Non Negozio Magari Gli possiamo mettere Questo qui Accetta Va bene Ragazzi Non Pannello Degli interruttori Ma il pannello Degli interruttori È questo Qui ci sta Questa Questo 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 qui Questo qui E niente ragazzi Non Non vi so dire Che cavolo è Che vuole ancora Sto tipo Mannaccia La miseria E che cos'è No Questo qui Ce l'abbiamo fatto Prima E ma E niente ragazzi Niente Io non Non riesco a trovare Più un cavolo Qua vicino Mannaccia Pannello Degli interruttori E vabbè ragazzi Vabbè Allora Arrivedo a questo punto Io direi di concludere Qui questo nuovo episodio Della serie di Yacht Mechanic Simulator Mi raccomando Fatemi sapere anche la vostra Qui sotto qui Nei commenti Di cosa ne pensate Mi raccomando Vi invito a lasciare Un bel pollicione in su A commentare Ad iscrivervi Attivare la campanellina Condividere il video E noi ci becchiamo In un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi